La follia fa parte della genetica di un genio. Il progetto si può realizzare, è questione di tempo, solo di tempo. Finalmente è arrivato l'originale del 1929, trarre ispirazione, rielaborare, ecco il miglior modo di procedere, l'isola magica di Sebro, il primo libro su Haiti e le sue pratiche magiche, la prima opera in cui appare la parola, ZOMBI, si fece dare da un ospedale legato alla sorbona tranci di un uomo sano morto in un incidente e ne cucinò in varie preparazioni la carne e ne descrisse accuratamente il sapore. Può non piacere l'idea di zombie che lavorano nei campi di cotone, ma sarà un'altra cosa, moderna, innovativa e vincente. Grazie! 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 Good morning! Grazie! Toi! Grazie! Non ci sono tutti i luoghi per il героio! Grazie! 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 Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti